C'è troppo ottimismo sulle entrate che il Comune di Milano prevede di incassare nel 2021. A dirlo è il Collegio dei Revisori dei Conti che, pur consegnando alla Giunta un parere favorevole sulla coerenza complessiva del documento unico di programmazione 2021-23, boccia l'attendibilità e la congruità delle previsioni di entrata in esso contenute. I revisori criticano infatti quasi tutte le voci di entrata previste. Rispetto al bilancio assestato del 2020, infatti per il 2021 Palazzo Marino ha previsto 20 milioni in più dalla tassa di soggiorno, 9 milioni in più per il recupero dell'evasione, oltre 15 milioni di incremento grazie all'Atari, 45 milioni extra per le occupazioni di suolo pubblico e la concessione di pubblicità, 72 milioni in più dal fronte delle multe e infine 168 milioni di entrate in più rispetto all'anno scorso derivanti dalla vendita dei biglietti dei mezzi. L'invito è quindi quello di rivedere le previsioni in un'ottica prudenziale che tenga conto della storicità delle risorse incassate nel 2020 e degli effettivi tempi di ripresa dell'economia. Il Comune sembra però voler tirare dritto e procedere con l'approvazione vista la straordinarietà del bilancio 2021, cosa che ha fatto scattare la reazione immediata dell'opposizione. La denuncia dei revisori dei conti del Comune Milano, che sono un organismo indipendente, rispetto al bilancio del Comune Milano 2021, è un fatto gravissimo e mai accaduto prima. Noi denunceremo questo fatto alla Corte dei Conti e continueremo comunque a chiedere un bilancio con più risorse per la sicurezza e soprattutto per l'assistenza domiciliare agli anziani. Se si dovesse procedere, una volta approvato il preventivo per il 2021, in aula proderebbe il bilancio consuntivo del 2020, da cui arrivano invece notizie incoraggianti. La parte corrente si è infatti chiusa con un avanzo lordo di 548 milioni di euro. Al netto, l'avanzo finale ammonta invece a 189 milioni. Un tesoretto che sarà in parte accantonato per far fronte a eventuali nuove esigenze di cassa, mentre con le risorse restanti si cercherà di confermare, e magari allargandole, le agevolazioni sulle imposte comunali già messe in campo l'anno scorso.